Hanno un'età compresa tra i 20 e i 25 anni, quattro saccenzi arrestati dai carabinieri della compagnia di Sciacca nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. I quattro giovani sono stati fermati a bordo di un'autovettura lungo la statale 624 dei carabinieri del nucleo radiomobile di Sciacca. Alla vista del posto di blocco hanno tentato inutilmente di disfarsi di un involucro contenente cocaina, lanciandolo da uno dei finestrini dell'auto. Nel corso della successiva perquisizione personale, i militari dell'arma hanno sequestrato un etto di hashish, mentre altre 70 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio sono state rinvenute nelle loro abitazioni. Il GIP del Tribunale di Sciacca ha già convalidato l'arresto operato in flagranza di reato dai carabinieri e ha disposto nei confronti dei quattro giovani la misura cautelare dell'obbligo di dimora in città. Con l'arrivo dell'estate le forze dell'ordine hanno intensificato i servizi di controllo del territorio e i posti di blocco lungo le principali strade di collegamento. E diversi sono stati i sequestri di sostanze stupefacenti a seguito di perquisizione effettuata da autovetture a persone che da Palermo stavano facendo rientro in città. Controlli che da tempo vengono effettuati anche sui pullman di linea della ditta Gallo-Sais, anche con l'ausilio di unità cinofile.